Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignan in vostra compagnia. Traffico regolare sull'intera rete stradale, autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul d'accordo sia la Firenze a causa dei lavori, sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata, con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'arracciamento con la A1, Firenze e Impluneta. A causa del maltempo, il traghetto Torre Marpiombino-Cavo nell'Elva, previsto per le 14.55, è stato sospeso. Possibili sospensioni anche per le partenze successive. Possibili disagi nella zona centro di Firenze per manifestazione in programma oggi, dalle 14.30 alle 18.00. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Vezzano-Rigoli, coinvogli percorrenti la linea tirrenica potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!